Amiche amici di All4Shooters buongiorno oggi siamo a parlare di un'arma piuttosto particolare che vedete quella che in america veniva chiamata Whippet Gun da noi si potrebbe definire lupara anche se impropriamente tant'è che questo modello si chiama proprio luparino è prodotto dalla RFM e in questa versione è camerata in calibro 410 con canne da 25 centimetri la bascula è quella come potete vedere di un classico fucile in scala per il calibro 410 la finitura della bascula è in ceracote questo è un verde militare l'impugnatura elastina sono in legno di noce con finitura soft touch nera questa è un'arma che c'è in versione anche in calibro 20 in questo caso l'arma è classificata come pistola in calibro 20 è classificata come fucile con canne da 45 centimetri il mirino è in fibra ottica rossa in questo caso la finitura dei legni che sono di noce è di tipo camo l'arma è di utilizzo semplicissimo in quanto i comandi sono gli stessi di un fucile da caccia quindi con sicura cursore e in questo caso scatto a bigrillo continuate a seguirci su all4shooters